3 2 1 Siamo a tutti ragazzi come potete vedere siamo Decimo Skywars e sono con Blue Fire Buonasera e ciao a tutti E praticamente stiamo Provando qua con Gesù Dato che abbiamo la sua benedizione No che cazzo Ok forse ci sei Scrivi in chat e vediamo se ci siamo Ciao Sì sì ci siamo Ok Sostanzialmente questo minigames consiste In un'isola Voi siete in un'isola e dovete proteggere la vostra isola E poi la vostra isola crollerà E poi la vostra isola esploderà E tutte le isole esploderanno a tranne la mia Cioè lo scopo Del gioco è vincere Allora Lava sì Allora tu sai giocare Cioè bene o male sai come sono le regole Quante volte con Hunter stavamo impazzendo Perché lui non le sapeva all'inizio Io so le regole E le ignorerò in pieno Oh posso fare i panini Io ti consiglio di non lasciargli niente nell'inventario Perché sennò per qua ti fa Oh 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 Fermali Fermali stronza Fermali No Ragazzi Mi ha fregato Ho preso tutto Poi iniziamo a buttare giù tutto Via i semi Via la canna da pesca Via i pantaloni Ok Può bastare Non lasciare cose nella Perché ti fregano Chi è quello? Nel senso che poi se te le fregano siamo fregati Ok mi stai sparando Mi stai sparando Sì Questo minigame è totalmente Oh ma posso mangiare i meloni Adesso cado però Andiamo da questo stronzo qui Sono finti Oh no Sparagli è questo Vabbè gli sparò io Te lo faccio cadere Sì Sì Vittoria No non è È sopravvissuto Vai miralo 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 Ho ancora due Aspetta quando sale sparagli addosso No aspetta io inizio a costruire la mia casa di protezione Sto combattendo nel fattempo Casa di protezione 5000 Ok ma non ti devi fare la casa Perché no scusa Perché Non posso decorare la mia Devi combattere Fai tranquillo Non si fa il camber mod Eh? Non posso fare Non si fa il camber Perché non posso costruirmi una casa? Pensavo fosse tipo una modalità avventura Oh devi uccidere gli altri Ma sì Una cosa che viene dopo Fuori uno Perfetto No no Tu devi uccidere Non devi farti casa Dai Devi uccidere Allora ok ti uccido Vieni qua No no Sto prendo io da te Ok Sì tanto butto via il grano Già uno lo uccido Ehi Perché sono forte Guarda in alto Sono fortissimo Eh? Non sparare perché sei caduto perto Non rischiare Stai tranquillo Lo so che lo vorresti fare Ma non lo devi fare Vieni qua Sto facendo una crafting table Occhio occhio Gira No ti stanno uccidendo Gira di no No Che morto orribile Vediamo che riesco a fare io E poi No porca puta Buona fortuna Bella Lui ha vinto Bella Sì Bella Salta Bella Fai un salto da vincitore Io so che c'è uno Ho visto un video dove Dite tutti quanti bella 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 Andiamo Dove andiamo? Puttati a cazzo qui No basta isola Alla scherzo andiamo Vai Sì Come mai non sono entrato? Anche io sono entrato Aspetti Eccomi Eccomi Scrivo ciao Ciao Scrivi Ci sei? Sì Sì Ci sei Perfetto Ok Dai Questa volta Seriamente Yes No Stai attento Vai Stai fermo lì Vengo io Posso andare subito in un'altra isola Non incominciare a farti gas e cose Perché Perdi Stai attento quando vai da isola a isola Perché ti sparano Ecco ti vedo Sei laggiù All'optifine Ti vedo tipo zoomato È bellissimo Posso andare in mezzo Sì Sì Se vai lì prendi più cose Però ti stai attento perché si lanciano tutti quanti lì E poi sei fregato Oh cazzo Eccole Ok Benvenuti in questa nuova avventura Dove raccoglierò il legno No Non è camper avventure Ma non volevo camperare Volevo costruire È building avventure Cioè sono arrivato tipo in finale con uno E abbiamo detto Vabbè restiamo qua Incominciamo a costruirci casa E siamo stati praticati Tutti il tempo così Sprechiamo tutte le mele d'oro Ma si possono mangiare anche quando Quando hai già la fame piena Ne ho sprecato i due Le mele d'oro sì Non sparare sono io Cioè quello lì in quell'isola in mezzo non sono Io sono quello che si sta facendo Allora io sai cosa faccio Cerco di mirare Hai presente il L'anello di fuoco centrale? Canestro con le palle di neve Ok mi ha ucciso Mi ha ucciso Non lo so come La mia cesta è di nuovo piena Tutto ciò non ha senso Ho tipo sei mele d'oro Mi hanno ucciso Cerca di vincere per me come ho fatto prima io Sì vai Ce la posso fare Vai Sì Andiamo in mezzo Ma ce l'ho mai giocato allo Sky Wars È la prima volta È la seconda Dai andiamo in mezzo La seconda perché prima ne avevo fatto un'altra No la seconda è seconda Ah ok Qui c'è uno con una bella skin Bellissimo Sì Ho conquistato una cesta Si dice conquistato giusto Sì Non c'è il dipendo Se è nella tua isola no Ma stai attento perché Sto attaccando uno Uccidilo Uccidilo Non è volato giù E ora Sì altre palle di neve Sono bellissime Stai attento Sì Palle di neve In caso si è fatto Dai mi uccida Ma si è fatto Si è fatto un muro Non vale Ma sono quasi arrivato in mezzo comunque Ma non ho una spada nemmeno Ehi No 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 Addio Mondo crudele No non ho registrato Sta parte Ci sei? Scrivi Sì Siamo salzati al mio 2 Sì mi sa che tu sei Dai scrivo io Ciao Sì sotto Eccoli Ok Cerca di Di non fare casette Di non Di non prendere palle di neve Spara e basta Concentrati Uccidi Ma non sono fatto per uccidere io Devi imparare Aspetta aspetta Sono già sull'isola Eh Non sta E' la gangue Quella stai la gangue No no Non è vero A me una volta è capitato Che tipo Scendevo e rompevo sempre tutto Un colpo Non so come Ho rotto veramente tutte Sono cadute e sono morte Sì ho delle uova Creiamo una farm No No finiti i polli E quello la pomoglio Io no 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 ecco forse qui Non ho la spada Cazzo non ho la spada No era quasi morto Ah è caduto giù Sì E si ho ucciso No non è vero in realtà Io praticamente qua ho uno con le hack Che ha un cappello Di Natale Adesso indosso la zucca Giusto per migliorare la mia visuale Questo è quello di prima con le hack Non è giusto Questo è forte Ma io non ti vedo Voglio vedere quello che fai Non posso indossarla Perché c'è tipo le luci Guarda E Gesù Oh 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 E tu che fai Tu provi a salire Oh 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 Devo muovermi o Cosa faccio Devi Devi uccidere Sì Spara bravo bravo Spara Devi cadere dalle isole Oppure ci vai addosso E li uccidi con l'ascia Ma io ho paura Mi rifugio Non devi cadere Oh quanta roba qua sotto Sì io Ma qua ci sono le palle di neve però Cosa mi dici no Sì non no Sì ma devi uccidere anche con le palle di neve Quando puoi ucciderli Non c'è vietato Sto cercando Quale cosa sta facendo Una casa anche lui Vedi che non è Sono l'unico a fare casa No no Quella è il camper È un camper Facci ora Approfittane Hai la spada Sì ho una spada Facci e lo uccidi Se mi uccidono Poi è colpa tua Stai attendo Stai attendo perché ti sparano Mi sto sparando No No ancora no Però stai attendo Prima che ti sparano Allora faccio una strada Allarga 2 Eh metti tipo il muretto Ma perché quello lì ha fatto tipo una fossa in cui morire Si è scavato la tomba Ok fuori uno Fuori uno No Questo gioco è bellissimo È un mostro Di gioco Come si chiama? Pazzo No pazio Adesso Adesso gli inondo tutto di lava Puoi vedere Tutta la sua immensa casa Ok Ok questo mi spara Oh mio dio Oh mio dio Salvo Salvi Stavo per motire Non riesco a salire Ecco Ecco Ci sono No pazio Che cosa stai dicendo? È pazio No stavo per morire con la mia lava Ok uno si è buttato per uccidermi ed è morto Adesso uso la tecnica del Oddio Cerca di C'è rinunciato Tu non ti muoverai da là No 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 Non devi No con la costa uccidi Bravo bravo No La tecnica non funziona Che cavolo Ma che tecnica Alice Podic Ciao Alice Podic Stopida tecnica Fa schifo Niente in chat Ciao Vinci per me Vinci per me Ho vinto Ho vinto Ho vinto Non so neanche Ah abbandonato il gioco Ho vinto perché Come lo so Cioè ragazzi vinciamo Mentre abbandonano il gioco E vinciamo Guardami 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 Ciao Hai visto? Guarda ti faccio vedere il bottone Cioè io ho pregato per te Tu mi hai fatto vincere Vediamo il bottone Dai Lo so ma se premi il bottone Cado una cosa Premilo Niente Te l'ho detto Che non ci serveva niente Che Androx ci sei Ma chi è? Ah c'è Chi è? Dimmi lord Perché mi cerca questa? Fu Anche un altro Che si chiama Sono i nostri fan Eeeh 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 Ciao fan Ma che schifo No non è vero Sono io Chi sono? Chi sono? Eeeh 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 I miei non li becco mai No tranquillo Vabbè non ti preoccupare Ok ragazzi Per questo video è tutto Spero vi sia piaciuto Da Bluefire E Ghandrox è tutto Bye bye Andate a controllare Bla bla Cicicicicaccia Bella